Ovviamente quando non si raggiungono gli obiettivi le responsabilità sono di tutti, non è mai un'unica persona, come negli ultimi tempi qualcuno sta cercando di fare. Diciamo che gli errori sono stati fatti collettivamente dalla squadra che scende in campo, dall'allenatore che li guida, ma anche dalla dirigenza che deve gestire tutta una serie di questioni, di rapporti, che sono molto sottili nel mondo del calcio, che molti non conoscono o dimenticano, ma che secondo me sono fondamentali. Quando si parla e si dicono tante parole e si pontifica, spesso non ci si rende conto degli effetti negativi, dei danni che queste parole possono produrre, quando sono fuori contesto, chiamiamole così. Nel corso del tempo abbiamo assistito a una miriade di conferenze stampa da parte di, diciamo, sostanzialmente una persona, Pantaleo Corvino, che hanno scandito tutta una serie di fattori, di questioni, di aspetti che hanno caratterizzato, secondo me, in senso assai negativo, le vicissime utili dell'Unione Sportiva Società per Azioni, che mi piacerebbe rimodulare e ridenominare quale Unione Sportiva Corvino Società per Azioni, visto che solo quest'uomo è stato al centro dell'attenzione, sembrava esserci un patriarcato, un uomo solo al comando, il deus ex machina, un vero e proprio plenipotenziario, che tutto ha fatto il disfatto, tutto sapeva, di tutto si occupava, in tutti i luoghi era sempre presente, soprattutto nei tempi belli, dove abbiamo visto e sentito in una miriade di interviste, ha deciso di entrare in scena in pompa magna con il beneplacito della collettività, della tifoseria, della stampa, naturalmente, e ha deciso di imporre le proprie leggi, le regole, il proprio credo, è un diritto di chi assume pieni poteri e questo diritto però è sottoponibile anche a un eventuale vaglio critico, quale quello che il sottoscritto immodestamente, e lo dico immodestamente, sta compiendo adesso. Posso anche peccare di superbia e di modestia, però io sono certo che tante cose che sono state dette e contrabbandate nel corso del tempo non rispondono a verità e hanno minato alcuni rapporti, hanno terminato alcuni vulnera, che si sono poi riverberati anche nelle prestazioni dei calciatori, nella serenità dell'ambiente e anche ovviamente nei risultati raggiunti. Quando si vince a Lecce ha vinto soltanto una persona o quasi, quando si è perso ha vinto soltanto una persona diversa dalla prima o quasi e questo non è giusto. Abbiamo assistito alla favoletta che il Lecce quando le cose non vanno bene ha programmato in un arco di tempo triennale, quando quelle cose sembravano stare molto bene e quindi essere vicini al traguardo, poi invece il traguardo da raggiungere era nel corso dell'anno e quindi a seconda dei momenti si è voluto poi parlare o meno del famigerato progetto, del progetto triennale. Oggi certamente si dirà che il quarto posto, il quinto posto, così come è stato conseguito dalla squadra, in realtà è un primo tassello di un arco temporale ben più ampio in tre anni. Questa favoletta io non me la bevo, non se la beve tanta altra gente, nell'intervista abbiamo sentito fino all'ultima prima della gara del ritorno del Venezia come sostanzialmente il programma è ampio respiro, è stata posta molta attenzione al vivaio, alle strutture, agli aspetti sociosanitari, alla dacaia, all'avvenimento dello stadio, a tante altre belle cose che sono state fumo negli occhi, ma quello che a noi interessa oggi è capire come si è mosso Antonio Porvino nel mercato, con quali prospettive e soprattutto con quali risultati. Non si può consentire di ovviamente limitare l'attenzione all'ultima partita, non si può consentire di ascrivere responsabilità e colpe soltanto all'allenatore che pure ne ha e non si può consentire di dare una falsa rappresentazione della realtà secondo la quale Pantaleo Corvino è venuto a ricostruire sulle macerie la sciale dame l'uso. Su questo aspetto ci tengo a chiarire che non è così. Si è parlato in conferenza stampa di 15 milioni di esposizione debitoria per il Monteprimi in Gaggi, fatto questo non vero, perché da questi bisognerebbe togliere quelli che riguardano gli allenatori, Riverani in particolare lo staff che era di 1 milione e 600 mila euro circa, quelli derivanti dalle cessioni di Rispoli, Falco, Petriccione e lo stesso Shakov che hanno alleggerito il Monteprimi e tutti dimenticano però, o meglio, colui il quale ha parlato di 15 milioni di euro e ha dimenticato che però grazie alle macerie di Meluso erano arrivate 1 milione di euro per il bonus di Lamantia e 10 milioni di euro di Paracadute, come ha anche 4 milioni e mezzo di plusvalenze, quasi 5, derivanti dalla vendita di 3 milioni e mezzo di Lamantia e 2 milioni e mezzo della vendita di Falco e di Petriccione, oltre a prestiti di un certo rilievo tipo Barac, queste sono state le macerie con tutti gli errori che tutti commettono che ha lasciato Meluso, sul cui macerie poi ha ricostruito Porvino, ha patrimonializzato questa tanto sbaglierata parola, vedremo queste patrimonializzazioni in che cosa consistono, che non sono certo imputare dei calciatori alla proprietà del bilancio, come le proprietà del Lecce, ma far derivare dalle cessioni di questi soldi, vedremo quanti soldi poi nel corso del tempo sarà capace di far avere Pantaleo Corvino all'Unione Sportiva Lecce. In questo senso faccio riferimento ai tre giocatori che sono stati definiti invenzioni anche dalla stampa, dell'opinione pubblica, dei giornalisti, conigli dal cilindro di Pantaleo Corvino, mi riferisco a Bjorkengren, a Juhlmann e a Rodriguez, che sostanzialmente sono dei giovani di belle speranze, che avrebbero dovuto fare, tipo Gallo, il passaggio squadra-panchina in maniera gradata, ma per forza di cose, per stato di necessità, per cause di forza maggiore e per emergenza derivanti da tutta una serie di condizionamenti che aveva subito una serie di giocatori che avevano certamente deluso, sono stati messi in campo, hanno retto per come possono reggere i giovani 5, 4, 5, 6 partite, poi essendo giovani hanno chiaramente avuto bisogno di rifiatare, sono scesi di rendimento e sono stati sicuramente i protagonisti negativi delle ultime decisive 6, 7, 8 partite. Questo è giusto per ricondurre nell'alveo della verità questi famosi conigli cacciati dal cilindro da parte di Corvino, che dimentica però che dal suo cilindro sono usciti anche Zuda, Nikolov, Paganini, lo stesso Stepinski, il professor Dermaku che per tutto il campionato era infortunato e poi stranamente negli ultimi tre domeniche ha sostituito in pianta stabile da titolare il giocatore più forte che abbiamo avuto quest'anno in difesa, Meccariello, è sicuramente il più tecnico, persistendo l'incompatibilità ambientale fra alcuni calciatori e il suo figliolo che ha la procura di alcuni calciatori, riferimento preciso a Dermaku e a Lucioni e forse anche a qualcun altro e tutte queste questioni hanno creato a mio dire delle problematiche anche all'interno dello spogliatoio che hanno determinato anche queste, non soltanto queste, ma anche queste, una serie di scadimento di rendimento e quindi una crisi anche di risultati. Patrimonializzare, caro signor Corvino, è una bella parola, però lì deve patrimonializzare in serie B, a patrimonializzare in serie B sempre se di patrimonializzazione si parla, che è differenza dalla serie A. In serie A il prestito è sempre oneroso e costa milioni di euro, in serie B il prestito può essere molto spesso gratuito e comunque quando oneroso si può costare molto molto di meno ed è quindi molto più semplice acquistare giocatori in prestito per la serie B o pagarli poco rispetto alla serie A. Ne riparleremo quando sarà in grado di salire in serie A e quando sarà in grado di patrimonializzare in serie A, così come lei ha detto di saper fare, come lei spesso ha saputo fare in altri posti diversi da Lecce. Aggiungo un altro particolare e non mi esimo dal dirlo, che questa squadra è stata costruita male e gestita anche male e di questo sono pronto a fare riferimenti nomi e cifre.